Al tredicesimo Festival del Giallo a Pistoia un ospite importante nel mondo dell'editoria, Franco Forte, direttore responsabile delle linee per Mondadori di Giallo Mondadori, Urania e Segretissimo. Ma sentiamo cosa ci racconta. Io da questi festival trovo sempre lo stimolo per arrivare a fare qualcosa di importante. Mi ricordo proprio a un giallo pistoia, penso abbiamo organizzato l'idea di fare un'ontologia basata su assassini sull'Orente Espresse, che erano assassini al plurale sull'Orente Espresse con tanti autori italiani di gialli che hanno dato la loro versione di quello che è accaduto nel romanzo della Cristi. Era proprio un giallo pistoia di qualche anno fa. Quindi insomma sono bei momenti in cui trovare e scambiarsi idee. La situazione per quanto riguarda il Giallo Mondadori è floridissima, florida quanto mai, perché veramente a parte la crescita costante della vendita delle coppie nell'edicola, della storica collana del Giallo Mondadori nata nel 1929, quindi la più longeva collana di narrativa d'Italia, poi dopo abbiamo fatto la versione della libreria, il Giallo Mondadori Iberia, dove abbiamo esordito con un chilometro 123 di Camilleri, che è stato grandissimo, ci ha aiutato tantissimo. Lui era un grandissimo appassionato di gialli mondadori, quindi ci ha seguito proprio da vicino per lanciare la colla, su cui poi sono usciti Caro Figlio, Massimo Carlotto, Lucarelli, Marcello Simoni, Pulisci, insomma tantissimi autori di grandissimo profilo, che dimostrano che il giallo, la parola giallo tra l'altro che deriva proprio, nasce, perché il Giallo Mondadori nato nel 1929 e aveva il colore giallo in copertina, quindi l'identità di questo tipo di narrativa, di questo genere letterario, sta andando non solo molto bene, ma ha una vitalità che non ha mai avuto, devo dire, in passato. Franco, tu tra l'altro sei il re, usci da un ultimo lavoro impegnativo, Carolus, che è praticamente la storia di Carlo Magno. Grande lavoro di ricerca, una divisione scandita dagli anni di vita di Carlo Magno e un affresco, direi, proprio storico di costume e anche di affetti umani. Sì, 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 allora il personaggio di Carlo Magno, quello un po' polveroso che studiamo a scuola, effettivamente non ci è mai rimasto molto nella testa, credo, no? E sì, è conosciuto, ci costringono un po' a studiarlo, ma poche cose. Ma chi era Carlo Magno? Era un personaggio straordinario, che ha fatto delle cose veramente incredibili. In 71 anni di vita ha fatto tantissimo. In questi 71 anni ha dato vita, per esempio, all'Europa Unita come la conosciamo oggi, da parte la Spagna, l'Europa che l'ha costruita è esattamente quella che noi conosciamo oggi, che si difendeva nei confini est da quelli che all'epoca si chiamavano gli avari in Pannonia, ma oggi è tutta la parte che va dall'Ucrania alla Russia, dove la guerra c'è. E quindi, insomma, è molto attuale questa cosa. E poi aveva lui, come essere umano, era un assaggio molto complesso, molto particolare, aveva un rapporto con tutti coloro che lo circondavano, che era veramente straordinario, perché era sempre alla pari, era sempre paritetico, era sempre di grande rispetto, però con una figura, quella di Carlo Magno, che era una figura imponente, sia da un punto di vista fisico, un uomo alto 1,92 m, che da un punto di vista morale, che da un punto di vista autoriale e politico. E quindi, ecco, è stato bellissimo dover mettere in piedi la storia di questo uomo, di questi 70 anni di vita, che hanno soppreso per primo me, perché io non immaginavo ci fosse tutte queste storie da raccontare intorno a questo uomo. E poi, come dicevi tu, i rapporti appunto con le persone, soprattutto, ci tengo a dirlo, le sue donne. Sua madre, le mogli, le amanti, le concubine, le figlie, le sorelle, ma veramente tutte le donne sono sempre, sapete, ma lui è molto vicino, lui aveva un rapporto molto moderno, un rapporto di rispetto assoluto, un rapporto di confronto continuo, da cui riusciva a tirare fuori tutto quello che gli serviva, dal punto di vista emozionale, personale, per esprimere la grande visionerietà che aveva. Un uomo era un grande visionario, un'idea del futuro, di quello che potrebbe essere il suo popolo, la vita del suo popolo, della sua famiglia, che veramente era avanti mille anni rispetto al suo tempo. Grazie Franco e buon lavoro per i tuoi prossimi obiettivi. Grazie, grazie a te, grazie a tutti e viva il Festival! Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie a tutti.